Ciao! Ho appena ricevuto questo bellissimo prodotto, con quale davvero mi ci trovo molto bene. È molto bello e tiene il mio caffè o tè caldo per 4 ore. È una tazza di viaggio di veramente alta qualità, perché hai fatto tutto in acciaio inossidabile. Poi con un solo clic si apre e sempre con un solo clic si chiude. Non perde liquido, poi ha un bellissimo design a 360 gradi, si può bere da ogni angolazione e poi è facile anche da pulire, perché si lava in lavastoviglie. Quindi è davvero un grande valore, a soli 19,99 euro. Quindi lo raccomando altamente. Poi si trova anche in argento o rosa. Buon utilizzo!